andiamo a fare un massaggio un massaggio tolgato anche in mezzo il pollice, l'indice, il medico un massaggio 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao ragazzi. Grazie di essere qui con noi oggi. Oggi faremo un massaggio alle braccia composto da prima di no. Poi andremo a fare uno scrub e andremo a idratare le mani e l'avambraccio. Quindi partiamo dai grattini. Ditemi nei commenti se vi piace di più vedere i grattini sulle braccia o sulle mani. A me piace molto vederli sui polpastrelli, qui. Quindi andiamo a fare un po' di grattini generali. Penso che in questo video avrò messo la musichetta un po' di sottofondo, rilassante. ditemi anche se è qualcosa che vi piace o vi dà fastidio. A me in certi video piace, in altri no, dipende. se non nei videomassaggi se è molto delicato. andiamo un po' con il pennello. Vado con il pollice, l'indice, il medio. l'angolare, l'angolare, l'angolare e il mignolo. Anche con l'altra? No, non per cosa. Il pollice, l'indice, il medio, l'angolare e il mignolo. E poi vado su tutto il panno, in questo modo. E poi ancora un braccio, un panno e i dita. Mi piace molto anche qui, all'interno del gomito, che è un punto abbastanza sensibile. Ti piace? Puoi dire sì? Sì. Sì. Sì.